L'estate è ormai prossima e incombe il problema delle zanzare. Urgo è la soluzione ideale per liberarsi dalle punture degli insetti. Urgo è un cerotto liquido pronto all'uso con tecnologia film o gel che associa proprietà protettrici e lenitive, ideale per le punture di 7 tipi di insetti. Zanzare, api vespe, ragni, tafani, formiche e acari. Urgo cerotto liquido può essere utilizzato per bambini a partire da un anno di età. È discreto, confortevole, resistente all'acqua e ha una durata di almeno 6 ore.